Ultima domanda, uno dei provvedimenti, se non il provvedimento più importante dovrete affrontare con l'inizio della prossima legislatura è la nomina del nuovo Presidente della Repubblica. Berlusconi aveva un nome che diceva, sempre ai nostri microfoni lo ha detto, che la sinistra non poteva dire di no, che è Mario Draghi, almeno questo è secondo le prime rivelazioni. Lei ce l'ha un nome? Io ho una grande stima per Mario Draghi, una grande disistima per chi finge di non sapere che quando fuori dal tempo giusto si pronuncia il nome di un eventuale candidato lo si fa per bruciarlo. Io penso che dobbiamo discutere nel momento appropriato del candidato o della candidata al Quirinale, facendolo con questo approccio, che le istituzioni non sono una proprietà del genere maschile. Forse è giunto il tempo di ricordarci che il mondo è fatto di uomini e di donne, che il mondo è due, non è uno, non è solo uomini, è uomini e donne, che le donne hanno autorevolezza e competenza per ricoprire qualunque incarico. Sarei molto contento se a questo giro noi rompessimo con la proprietà maschile del potere.